Ad accanto il sindaco Franco Raffo ha proceduto all'insediamento dei due nuovi assessori comunali, ossia l'avvocato Mauro Di Pace, vice sindaco con delega alle problematiche giuridiche amministrative, bilancio e finanze, e al dottor Salvatore Stornella alla cultura, lavori pubblici e manutenzione. Qualcuno si stupisce perché di questa innovazione a fine mandato, dice Raffo. Stupore legittimo, se non altro perché mi conoscono poco. Si sa infatti che molte, al termine del mandato, si limitano solo all'ordinaria amministrazione, per non dire peggio, ma la nostra filosofia di vita di governo, continua Raffo, nel pieno rispetto dei cittadini, è quella di lavorare fino all'ultimo giorno, 18 ore al giorno. L'abbiamo fatto sempre nella nostra vita e nel nostro lavoro professionale, quindi lo facciamo anche al Comune. Nel giugno 2013, ricorda ancora Raffo, abbiamo trovato al Comune confusione macerie e ci sono voluti anni per capire i misteri, il disastro finanziario e la bancarotta deliberata e immediatamente revocata insieme a una montagna di debiti. L'obiettivo è comunque lasciare il Comune in ordine, con i conti e regole, una organizzazione efficiente e soprattutto un Comune chiaro e trasparente. Chiunque verrà dopo di noi saprà la verità su tutto e quindi non potrà dire di non sapere, ma soprattutto potrà lavorare tranquillo e completare, se lo vorrà, tutti i progetti rimasti nei tinere. Questa è la nostra filosofia di vita, conclude Raffo, non lasceremo macerie a chi verrà e nemmeno misteri. E già da tempo, come detto sopra, il percorso virtuoso è stato avviato.